Eccolo qui, per Luigi Cappelluzzo finalmente lo conosciamo, un Marcantonio. Eh sì, diciamo sono un po' alto. Sono contento di star qua e adesso di farmi conoscere, quindi è un piacere per me. Tra l'altro ci resterai, sino a giugno almeno. Hai avuto rassicurazioni in merito anche da parte della società, dell'allenatore? Sì, sì, sì. Come ho detto prima, io sono contento di rimanere qua se la società lo ritiene opportuno. Purtroppo poco spazio fino a questo momento, però lì davanti c'è tanta concorrenza e guerrita. No, infatti alzo le mani, diciamo, perché c'è gente come Gianluca, Lapadula, Caprari, Andrea, di tutto rispetto. Quindi io lavoro durante la settimana, tutta la settimana, a mille. Falto a Trapani, all'esordio, sei andato vicinissimo al gol, se non vado a raro. Sì, sì, sì. Trapani, quel maledetto palo di mezzo c'è stato, quindi purtroppo non l'ho segnato, però arriverà. Speriamo, dai. Caratteristiche punta centrale, sei un po' l'alter ego di Cocco. Sì, 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 sì. Mi rispecchio in lui, diciamo. Faccio la guerra con tutti. E a sportellare. Esatto, esatto, sì. Sportellate con tutti quanti. Senti, questo è un momento straordinario per il Pescara, cinque vittorie consecutive. Bisogna dare continuita. Sì, sì. È iniziato bene il 2016, come era finito il 2015. E dobbiamo continuare su questa strada e arrivare il più in alto possibile. Le tue precedenti esperienze, tu hai giocato anche, ricordo, se non vedo errato, col Siena all'Adriatico, entraste in corso d'opera, oppure mi sbaglio? Sì, sì, sì. Si infortunò, tra l'altro, all'inizio di quella partita a Rossetti, tu entrasti sul finire. Alla fine, sì, 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 esatto. Purtroppo si fece male lui. Poi da lì ho avuto molto spazio, diciamo, nel Siena. Ho fatto con le mie dieci presenze. C'è un giocatore a cui ti ispiri? Sì, Gianpaolo Fazzini. Lui è stato sempre il mio idolo fin da piccolo. E quindi cerco di ispirarmi a lui.